Salve cari amici di Cinevos Cult Club, siete tornati dalle vacanze? Bene, spero che siate tutti bene perché ci dobbiamo rincontrare il 25 e 26 settembre al Music Day dove si svolge all'Hotel Mercur Roma West, mi raccomando non mancate perché saremo lì presenti questa volta dal vivo con il nostro Cinevos Cult Club grazie a Pozzone che ci ha concesso uno spazio dove poter parlare insieme a voi, dove lanciare le nostre iniziative, dove potervi intervistare ma comunque gireremo anche tra i vostri stand, tra i vostri dischi, guarderemo le novità che avete eccetera, verranno a trovarci molti amici saremo allo stand sabato anche con il nostro partner AMS con il quale facciamo tutte le nuove ristampe della Cinevox e che parteciperà con noi a questo momento di crescita di questo nostro club che vogliamo far diventare veramente un piccolo movimento culturale in difesa e in sostegno del vinile, dei negozianti e di tutti gli appassionati di questo bellissimo supporto. La domenica, la domenica alle 11 ci sarà un convegno dove io parteciperò e parlerò di cinema, musica e vinile. Proprio l'argomento che più mi sta a cuore perché la Cinevox è nata proprio per mettere su questo supporto le più belle colonne sonore e ancora oggi è quello che facciamo su supporti di tutti i tipi tra cui, come ho detto, con l'AMS facciamo le nuove ristampe bellissime, devo dire, per chi ha avuto l'occasione di verificarlo. Gireremo, come ho detto, in tutti gli stand, ci verranno a trovare molti amici e tutte queste interviste verranno poi inserite nei siti del Cine Corriere che segue tutta questa nostra iniziativa grazie alla sensibilità del direttore, nonché amico, Renato Malengo che sarà ovviamente presente anche lui perché anima di questo Cinevox Club Club. Questi video, oltre che andare in onda su Cine Corriere, vengono poi replicati anche da Soundtrack City ormai affermata trasmissione del web sulle colonne sonore e da molte testate come colonne sonore e come altre oltre che nei nostri siti istituzionali della Cinevox. Quindi saremo insieme, mi raccomando, Hotel Mercur Roma West per il Music Day 25 e 26 per fare una festa insieme a questo supporto fantastico, ma non finisce qui. In questi due giorni lanceremo anche un contest, un piccolo gioco da fare insieme a tutti gli appassionati che si iscriveranno al Cinevox Club e a questo contest e che dovranno inviare una foto di un'idea promozionale su come lanciare un prodotto su vinile. Ma quale prodotto? Un prodotto Cinevox, si intende. Ma questo porterà a una piccola classifica, niente di importante, ma vogliamo celebrare anche il prossimo anno questo momento di crescita e quindi consegnare il Golden Records della Cinevox alla più bella idea fotografica sulla promozione di un vinile Cinevox. Quindi mi raccomando, non mancate, staremo insieme, brinderemo insieme. Il Cinevox Club sarà presente con voi a partire anche da questo momento al Music Day per tutto l'anno. Vi abbraccio, vi aspetto. Ciao.